Harry, dobbiamo tenarci leggeri Non lo rubo, Dani Buo Harry, è arrivata la nostra grande occasione Ci siamo allenati bene, ecco la serie Ci siamo allenati benissimo Facciamo il salto di qualità, quindi a letto presto stasera Infatti, Dani, presaolina, roba in bianco Non roba pesante che domani comunque ci dobbiamo allenare Domani è tosta Un giretto a Cagliari comunque Dobbiamo farlo per forza Un attimo, andiamo a letto presto A letto prestissimo Dai, dai Mi può dare anche una granata per cortesia, grazie Allora, avevamo detto a letto presto e vita da professionisti Presolina, Dani Alimentazione da professionisti Ma purtroppo a Cagliari oggi c'è la festa del cioccolato A volte il destino vuole così Ho preso questa bomba al cioccolato Ma con le noccioline perché fan bene Cioccolato fondente questo Buono Ah, c'ha pure il... Guarda, Dani, invece cosa ho preso io Sobrissimo Kalashnikov di cioccolato fondente Ci diciamo da dove partire Buono Da fatto del mirino Molto buono anche questo Non so se giocarci o mangiarlo, Dani Ma già tu te sei mangiato Ma sei un polpo Allora, un Cagliari lo prendiamo Di bala No, no, di bala Non prendi di bala Prendiamo Arca, c'è anche Cristiano Cagliari e Ronaldo È roba locale Alla tua Da professionisti Sì Micchia, buono Buono, buono È difficile da digerire Cristiano Ronaldo Un po' pesantino No Ora andrei un pochino più sul salato Sì Però un taglierino con dei salumi Non te lo puoi fare No, eh Dai, mi hai convinto Mi hai convinto Dato che domani abbiamo un allenamento importante Il listo dei salumi e formaggi Solo i formaggi Carboidrati Sali minerali Una bella birra Seria, fresca Io andrei su un rosso Allora, Dani Mi hanno detto che da 0,20 è immorale Bella tristezza Alla tua È professionista Senti, proprio i sapori Ma bevi Gli odori Ma che hai bevuto la benzina fino ad un anno fa Aspetta Ma anche meno Sì Avete una selezione di salumi di montagna La salsiccia è un misto cinghiale Le cremine le facciamo nuovi I farmaci sono tre diversi Quindi magari iniziate Dalmeno stagionate Sì, peco al fiore Le frittate, l'alto Se casete, ricotta salata Delle panadas Due di carne e due di verdure Poletta con salsiccia La purpusa è l'interno della salsiccia Che viene tirata in padella Sgrassata E con il taglio di acqua e spezia Patate, pecorino e mentuccia Ciotoli nei quali semi delle unife Buon divertimento Nel senso che Ti avevamo chiesto una cosa leggera Perché domani ci alleniamo E ci hai proprio preso E poi? Adesso è il coccoetto bread Mangia, dai Ma domani come faccio? Ci alleniamo? Posso dire che abbiamo mandato a puttana La più grande occasione della nostra vita Non contenti abbiamo preso il cannolo Sì, sì Un flanno, un cannolo E l'acceso Arrivò Grazie Ha detto Ciscai che non ci ha capito più un cazzo Ti memori, dai Non è buona Non è buona È paralisiaca Digestiva? Prendiamo? Tu mi piaci Alla salute oggi ci sto pronto Io sono ugrino Dani, io sto pezzo Andiamo a ballare Saluto mia mamma E i nostri amici nel tubo Tutto Ti sale un po' il brividino Mangiare e bere Problemi zero Allenarsi Ci mettiamo qualche un po' più tranquillo Un po' più tranquillo Abbiamo messo un po' di movida Ma noi non ci dobbiamo far distrazione Ci vediamo qualcosa perché siamo dei professionisti A letto presto Domani è un grande giorno Certo Adesso beviamo l'ultimo È proprio così di... Sì, no, questo è contemplativo A Cagliari Noi domani mattina ci dobbiamo allenare col Cagliari Che è una squadra di Serie A Noi non abbiamo mai avuto questa grandissima occasione Già abbiamo comunque fatto una cena importante La cena importante non me la dovevate dire Perché vuol dire che potreste reggere molto Ah, mi piace Ah, grazie Qua la sera si fa difficile Una cosa leggera avevo chiesto Poi ragazzi Alla salute Sono più belli Sono calciatori brutti Salute Ragazzi qua si fa critica la situazione Ogni volta che vado Da qualche parte Mi incastrano Andiamo a bere uno sorriso Impincheranno Giordi Con una corda d'oro E' un privilegio raro Ruba sei cervi Nel palco del re Vendendoli per denaro Ciao Cagliari Capitano ci dica qualcosa DBook Io ci dico V probabil Heritage E' un bon Non E meant Dice Dice Cagliari Un denke Dice Dice Level Allora, noi tra 35 minuti siamo in campo col Cagliari, mi sono appena svegliato e Enrico ancora sta dormendo, quindi andiamo a svegliarlo. C'è una notizia buona e una cattiva, allora quella buona è che sia ancora vivo, quella cattiva è che tra 35 minuti siamo in campo col Cagliari. Come 35 minuti? Eh sì. Voglio morire. Facciate di stare. Mocchiale da sole tattico. Il grande giorno è arrivato, potevamo arrivarci un pochino più preparati ma è bello così. È bello così perché comunque Dani dormire poco poi non ti fa pensare. L'ho capito ma comunque sono fiducioso e vediamo se almeno oggi riusciremo a fare questa partitella. finché all'aperitivo. Iniziamo a sentire il quarto Gilemon che non può né scendere né salire. Nel limbo mi è rimasta dai. Continuo, continuo a fare. R sta mollando eh. E non sono bastati neanche 50 giri di campo per meritarci un po' sulla partitella. Eh onestamente era difficile. Sì è giusto così. A noi manca un buon procuratore. Vero. Secondo me ci vendiamo male. Ci vendiamo male. Ma secondo te ci serve uno alla Mino Raiola o alla Vandanara? Uno alla Bepperiso. Alla Bepperiso. È la prima cosa nalcolica che bevo da ieri sera. Con questa facciamo altri 50 giri di campo così. Iniziamo la posizione. Ieri. 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 scatti siamo dei cialtroni dopo 50 giri di campo è arrivato finalmente il nostro momento adesso sfidiamo ai rigori Cigarini e Jaupel Cazzo sono forti eh sono forti ma noi siamo... oh Dani si vede siamo arrivati in Serie A è una vita che ci prepariamo questa è la Serie A ragazzi questa è la Serie A è una tensione mi sono fatto prendere un po' dell'entusiasmo la Serie la vi ho bareggiata eh la vi ho bareggiata stiamo giocando un pezzo di stagione ah ma sono già sopra di due se fai gol hanno in un'invento adesso facciamo Italia-Brasile gara di traverse o belli contro brutti meglio giocare dai in un'invento E' un bel acquisto eh Ciga, abbiamo acquistato Ciga ragazzi Ugandan N aprofichi! Alla domani! Domani baby! Un'law Sunday! Basta domani! Sì, si allena di emozioni, si vede di traverso. Quindi fa ancora più male. Ce l'abbiamo le immagini? Forse è malo. Forse è malo.